anche io volevo fare il video del ascenso ma vaffan troffi al pezzo è una cosa di dimenzio ma vaffan troffi al piede aspetta spiegati a vedere quello che c'ha perchè non la sento vuoi vedere quello che c'ha apri la pallina non non sa se lo sa di tenere no se vuoi si calma non c'era una chingurina non è proprio questa non dai ma che c'è andata a cielo non è proprio a 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